che te lo dico a fare adesso è stato fatto eppure finito gente che nasce sui geni come ti ve la prova ho sentito un cuore no la figa è qui io l'ho vista non punta a noi non punta a noi col gatto oh vuole me c'è a ruin punto a noi non punta a noi troppo il tuo oggetto bannabile ma io non ho dei dart mi trovo sempre in chase h24 questo fa teorie no ma siamo proprio spawnati insieme al kill guarda se viennesi in casa dai a secondo piano vai si se volete l'invito è sopra la collina accanto alla casa boh ah l'ello che è bitticci l'hai che vanno no no andry non sono un programmatore rimani rimani vado io ho creato vado io quindi che sta venendo qua sta venendo qua vado io dai vai vado io c'è ci sono 12 pizzi ho qua sotto c'è sicuri dipende te lo meriti si ho diventato che voi avete fatto morire prima intanto ero l'unico eh l'unico già da morto non è che fermo a morto 5 km mi sono fatto che arriva da te psc usare uno per tutto pure per fare pipì intanto io me le trovo un altro di oggetto tanti per io ho rotto qua no adesso poi lo metto qui che vuol dire ma io sto ravanando alla 4x4 cosa possono utilizzare ruin non so cosa foste sai che c'è qualche addonno per rallentare la ricerca nelle casse eh dai dai che buona la prima hai tante carte zanzilo eh che culo posso topoleggiare e uscire eh che devo fare la sfida grazie era veramente buona la prima aia mi fa male un'occhio adesso ciao z dovresti dirmi quanto dureva la prima prima al 30 se non sbaglio prima compagno vogliamo si era un peccato ah gb dove sei? eh 4 e 4 eh occhio che se chiedevo il gen abbiamo chiuso il 3 gen per decisionato pure in fila mi lascia il 99 allora si è iniziata nel già un altro ma come 3 gen scusate ne mancano se abbiamo fatti due eh si chiudi quello sono tutti i 3 gen affinati in accanto all'eco di dolore vai viene da me dai gg lgg forse c'è pure pop sai sicuro sicuro c'è pop eco di dolore ma che teorie fa questo c'è pure un altro perk che quando butta a te scarica come si chiama? ah si questo ragazzi non è da sottovalutare eh questo ci avrà pure no head forse è teorico ahhh quanti totem avete fatto? uno non è rotto è rotto cosa è rotto? chi è rotto? che è rotto? che è rotto? che è rotto? ah sono tu te eri rotto sono morto sono morto c'è un gen a un buon punto eh 8 giorni fa vieni vete levati dal muro eh no eh ma io so troppo ragazzi levatevi dai muri quando vedete prendetelo come vizio allontanarsi dal muro proprio nell'istante in cui si viene atterrato sempre sto facendo il secondo totem dove siete eh? io su ganjo infatti te no jen accanto che ci si può fare fai questo jen si sta ci sanno oh vieni qua vieni qua ma chi ti salva? se tu vieni un attimo qua ma vai in seconda fermati eh si vuole vendicare ok adesso vai dovevo fare una cosa eh dietro quel tizio appeso c'è un gen a buon punto toccatelo che sta regredendo ah ok vicino da 4 per 4 tutto calcolato lì l'ha riscalciato vabbè poi toccatelo vabbè poi ci siamo passi avanti non c'è così bravo oh no l'ho sempre e comunque e dovunque e con qualsiasi gioco mouse e tastiera forse l'unico gioco che non sopporto mouse e tastiera è rocket league ma per il resto sempre mouse e tastiere è affosissimo oggi era proprio affoso non c'era sole oggi da me ma la giornata è caldissima l'unico fifa che ho giocato è fifa street infatti victor hanno sfondato tutto ah ma è tutto aperto qui ti hai detto un po' esotica mamma mia ti rischia tutto senza detarte guarda che anima via che mi viene a salvare ma si il tempo che mi tolgo sto cappello dalla testa non è l'ultimo gen poi possiamo scappare le trappole no non facciamo come Bacuda arrivo ma quell'ultimo gen che sta vicino alla 4x4 era 99 qualcuno l'ha toccato non era 99 da molto non era 99 vabbè l'avete toccato comunque è un paio di volte sì ma si è beccato quasi uteri scarico viene qua nello viene qua oh finalmente lo non ci credo eh mo lo so dammi te già sto di nuovo in c non la portare è la 4x4 ma c'è un pallet da coppare no avanti tio non vuole me quetz deve togliersi la trappola andando oh no questo gen era chiuso non so quante volte oh no giochi a roguet perchè non lo porti qualche volta gioco for fun ogni tanto l'ho portato in live è buona la tazza boomer forse si batte l'ho lasciato forse potrei farti volare zanzi volendo eh buona la terza lello viene 4x4 così l'ho visto con tranza anzi no a lello non venire ma so dire di te come me ciao green è moving sicuro il torneo vai jimmy il gen come hai messo te lo dico subito te lo ho detto facci il tempo vado via d'aprita si va vai questa eh come ve lo pingo all'uscita sta sta un totem se vede non ha vado qua qua vieni 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 ah si apri apri quella porta che io non posso aprire lascia 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 vai tu grazie vieni qua da me faccio il save faccio il save swing swing vai torno all'uscita si l'altra aperta eh ragazzi l'altra aperta ma devo domandare ninno glielo devo dire regà io non posso toccare la porta cazzo dovete aprirla voi vai scappate 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 lello ma scappate dove cazzo non so l'altra aperta ok lello ma tu non l'avevi aperta questa scusa ma chi è questo che correva come un satanista qualcuno vai vai aprite l'hanno detto che era al 70 l'ho detto che era al 70 quando l'ho detto prima non hai detto un cazzo di niente che l'ha detto si è rigirata quando c'era con me l'ho detto la lascia a 70 che non non ho tanto che prima e io come cazzo esco adesso dove stai? dall'altra parte? stai la 4x4 vieni a curare voi l'avete sentito in chat ha detto la lascio a 70 aspetta cimi fiume 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 vado a recuperare la grippa anche in difesa ok andiamo allo il killer dov'è? è camperato lì la porta ma come è camperato alla porta? voglio la killer scusa dove sei? libro dove ci stavamo ammazzando tutti è molto più lol come c'è molto più lol se l'aveva giocata bene all'inizio questa pig poi non ha tannelato eh timmi ciao timmi sei alato timmi finalmente ho fatto sta cazzo di sfida vaffanculo non ne posso selezionare un altro non ne posso capire